Macchine intelligenti ci permetteranno presto di vincere le sfide più difficili. Una volta online, il suo potere analitico sarà maggiore dell'intelligenza collettiva di tutti gli esseri umani nella storia del mondo. Professore! Rivoluzionari indipendenti dalla tecnologia, Rift, vogliono bloccare ogni tentativo per quello che voi chiamate trascendenza. Il corpo di Will sta morendo, ma la sua mente è uno schema di segnali elettrici. Possiamo caricare la sua coscienza, lo possiamo salvare. Se abbiamo messo qualcosa, come sapremo con chi abbiamo a che fare? Non ti lascerò andare. Will, mio Dio. È come se la mia mente si fosse liberata. Mi serve più potenza, mettimi online. Lo devi spegnere finché non sappiamo con chi abbiamo a che fare. È lui! Dove stai andando? Ovunque. I tuoi amici non si rendono conto dei rischi. Se lo connetti a internet, la prima cosa che farà sarà copiarsi e non si potrà più disattivare. Qualunque cosa sia, sta mettendo insieme un esercito. Non è evoluzione, è un abominio. Will, sta andando troppo oltre, smettila! Non capisco, è il futuro. Non è il nostro futuro! Sei cambiata. Hai smesso di amarmi? No. Se non lo fermiamo, sarà la fine dell'umanità come la conosciamo oggi. Non capisco, è un rapporto che i noi. Non capisco. Non capisco. Se non ciissi. Se non sapete.